Ben ritrovati, Simone Ardone, un appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in blu. In questo lunedì 11 maggio 2020, in primo piano, la cronaca, tentano di vendere una friggitrice, una rostiera professionale a Formia, ma sono provento di furto, intervengono così i poliziotti del commissariato locale in via del Macello e beccano un uomo e una donna di Formia mentre cercavano di vendere la merce. Le attrezzature professionali erano state sottratte a seguito di un furto perpetrato in Largo Paone all'interno di uno degli stand in legno del mercatino natalizio organizzato dal comune di Formia. I fatti riguarderebbero la notte di Capodanno. Arrestato per droga a fondi nella giornata di sabato, beccato in flagranza di reato di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 54enne del posto trovato in possesso a seguito di perquisizioni personali e domiciliari di grammi sia di cocaina che crack, varie sostanze per il taglio della sostanza stupefacente e due bilancini di precisione. Disaggi ieri mattina all'alba in via delle Rose a Gaeta quando intorno alle 6 diversi cittadini si sono trovati in difficoltà non riuscendo a risalire la via tortuosa per colpa della segatura e della pioggia che creavano una sorta di patina scivolosa per i mezzi in transito. immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco della squadra 5A di Gaeta che, una volta sul posto, hanno compreso come il problema nascesse proprio dal grosso cactus presente in zona. Iniziate le pratiche di rimozione della pianta che nel giro di non molto tempo è stato possibile rimuovere e quindi risolvere il disagio provocato. Ancora buoni i numeri dei nuovi contagi nel sud pontino in merito all'emergenza sanitaria Covid-19. Ancora zero casi anche nel fine settimana. Ieri, ad esempio, nel bollettino giornaliero dell'ASL è stato riscontrato un solo nuovo caso nel comune di Latina. Purtroppo, però, nella giornata di sabato sono stati riscontrati due nuovi decessi, sempre ai goretti di Latina, ma di due pazienti fondani che erano ricoverati presso il nosocomio del capoluogo. Sempre in merito all'emergenza Covid-19, tanta solitarietà e così l'autore del volume Racconti di Paese, Michele Maddalena, ha deciso di procedere a un gesto di grande sensibilità acquistando direttamente dalla propria casa editrice ben 100 copie del suo libro. Copie che sarà possibile riacquistare da quest'oggi, 11 maggio, presso la sala Falcone e Borsellino del comune di Formia. Il ricavato, che l'autore fa sapere di cedere già anticipatamente, andrà devoluto all'ospedale di uno svizzero di Formia per la cifra di 1.500 euro e al Versud Pontino, protezione civile, per 500 euro. Invece, sempre a Formia, da lunedì 11 fino a giovedì 14 maggio, fanno sapere dal comune su tutto il territorio comunale di Formia inizierà il primo dei tre cicli di interventi di derattizzazione e disinfestazione. Gli interventi di derattizzazione promossi dal comune saranno effettuati su area pubblica o spazi di proprietà comunale saranno realizzati attraverso la collocazione di esche per i roditori in scatole chiuse, quindi non raggiungibili da altri animali, a comunicarlo proprio all'amministrazione formiana. Noi siamo in chiusura del nostro notiziario. Vi ricordiamo come sempre i nostri contatti. Per questa edizione è tutto, un saluto da Simone Ardoni e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu.